53 anni e 5 mesi separano Leo Luca Orlando e Lena Schilling, il deputato più anziano e la più giovane del Parlamento europeo. Entrambi fanno parte del gruppo dei Verdi Alleanza Libera per l'Europa, dove sono arrivati con traiettorie politiche e personali molto differenti. Orlando ha 76 anni, per 32 è stato sindaco di Palermo e ha già fatto l'eurodeputato 30 anni fa. Schilling è un'attivista climatica di 23 anni, entrata per la prima volta in politica dopo le manifestazioni con i Fridays for Future nel suo paese, l'Austria. Io voglio portare più Mediterranei in Europa per portare in Europa la nostra volontà di pace, basta con questa folle corsa ai armamenti, per riconoscere finalmente lo Stato di Palestina, per condannare il genocidio del governo Netanyahu in danno del popolo palestinese, per mandare un messaggio che sia di giustizia ambientale e giustizia sociale. Di mettere insieme giustizia sociale e giustizia ambientale garantendo i diritti, i diritti al futuro dei giovani. Dico i giovani del Mediterraneo che hanno il diritto di essere, fino in fondo, liberi e sceglie di estero europei. Abbiamo bisogno di più Europa e meno frontiere, ha bisogno di più pace e meno armi, ha bisogno di più sviluppo sostenibile e di meno petrolio, ha bisogno di più accoglienza e di meno approccio sicuretare nei confronti dei migranti, ha bisogno di salvare più vite umane, piuttosto che invece consegnare tanti migranti nelle mani di Stati dei quali non si rispettano i diritti fondamentali. Lena Schilling farà parte della Commissione Ambiente del Parlamento, mentre Leo Luca Orlando è membro di quella dedicata agli affari esteri. Entrambi promettono battaglia sui temi di bandiera del loro gruppo politico, sostenibilità ambientale, rispetto dei diritti delle minoranze e giustizia sociale.